ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video oggi un video in cui vi volevo far vedere le mie idee per un outfit per natale e spero che questo video vi piaccia appunto sono tre outfit io vi mando un bacio e vi lascio al video ciao a tutti 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 ciao a tutti